Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento sono quattro gli argomenti che tratteremo. Eccoli. Si parla appunto di geotermia, le risorse dai contributi che arrivano direttamente dai comuni, una proposta di legge che è stata approvata a maggioranza con 34 voti favorevoli e due contrari del Movimento 5 Stelle. E poi il Via Libera al programma di attività 2022 del Corecom e viene approvata anche un ordine del giorno presentato alla Lega per sviluppare un'app gratuita. Poi viene riconosciuta Volterra come Città Toscana della Cultura 2022 con il voto contrario di Forza Italia alla mozione con il primo firmatario Pierroni del PD. E poi si festeggia in Policittà Natale con una serie di fine settimana che vedranno anche Luna Park e neve artificiale. Ed eccoci quindi al primo argomento. La quota parte delle risorse derivanti dai contributi geotermici e destinata ai comuni geotermici sarà loro assegnata direttamente. Lo stabilisce una norma transitoria per garantire che questo accada nel periodo di tempo necessario alla trasformazione del consorzio in società in house della Regione. La proposta di legge è stata illustrata in aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti e approvata a maggioranza con 34 sì e due voti contrari, quelli del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una norma transitoria che la Regione Toscana ha approvato questo pomeriggio riguardante la possibilità per i comuni geotermici, quindi tutti i comuni che ricadono nell'area della geotermia, di poter introitare le risorse che derivano appunto dalla geotermia per poter disporre di queste risorse da spendere e progettare e fare investimenti sul territorio. È una norma transitoria perché la Regione sta già lavorando e ci siamo dati un tempo al 31-12-2022 per ragionare con COSVIG, che è la società che si occupa della riscossione, in auso, quindi far sì che ci sia una società gestita dalla Regione Toscana. Il tempo per gli approfondimenti necessario è un tempo piuttosto lungo, quindi si parla, come dicevo, del 31-12-2022. Nel frattempo la norma transitoria consente a quei comuni di poter beneficiare ugualmente delle risorse derivanti dalla geotermia. Un atto sulla geotermia molto importante, seppur un atto tecnico, perché riguarda la possibilità per i comuni di attingere finalmente ai fondi che li riguardano. Sono due ambiti molto importanti nella nostra Regione, perché sia quello della Val di Cecina, sia quello della Miata, sono due aree interessate che garantiscono alla nostra Regione il 30% dell'energia sul nostro territorio e questo potrebbe anche essere ampliato. E' chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo, perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024 e se non si riesce a fare una gara, magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono avere una continuità perché questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante e ne parlavo anche con il sindaco Vagaggini Piancastagnaio piuttosto che con il sindaco Ferrini della Castelnuovo Val di Cecina, due aree molto importanti dove devo dire che tutti i sindaci sono uniti e è una battaglia comune anche per noi qui in Consiglio regionale. Si è trattato della questione del COSVIC e dei contributi che in questo passaggio mancante per adesso verrebbero versati ai comuni in attesa che COSVIC diventi un in-house della regione toscana e devo dire che questo argomento è arrivato nella seconda commissione in maniera piuttosto improvvisa in quanto l'argomento dell'energia atteneva la quarta commissione fino alla scorsa legislatura e perciò per noi è stato un argomento nuovo e non è stato neanche analizzato all'interno della commissione all'interno della quale io stessa lavoro e questo secondo noi è un passaggio grave che manca e soprattutto anche perché bisogna capire quale sarà il lavoro del COSVIC le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio perché la geotermia bisogna dire chiaramente una cosa c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente quella bassa entalpia quella delle piccole impianti compresi quelli domestici e sono sicuramente una grandissima risorsa e questa va sfruttata ci sono quelli invece che fanno geotermia un tipo di geotermia che è speculativa che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo quella va evitata e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è presenta problematiche differenti in alcuni casi è completamente innocua anche dal punto di vista ambientale in altri casi come sull'Amiata abbiamo visto aver dato anche gravi problemi su cui uno studio, lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto quindi prudenza perché la geotermia è una grandissima risorsa ma bisogna saperla sfruttare bene deve essere sfruttata nell'interesse della popolazione e dell'ambiente e soprattutto bisogna molto fare attenzione a dove questa viene praticata e c'è anche il Via Libera il programma di attività del Comitato Regionale per le Comunicazioni ovvero il Corecom, il Consiglio Regionale approva la proposta di risoluzione per sostenere le azioni in materia di diffusione della cultura digitale e di promozione di una navigazione consapevole e sicura attraverso il progetto patentino digitale spesso ne abbiamo parlato proprio di questo progetto interessante proprio per i ragazzi per farli navigare su internet in modo sicuro l'Aula approva anche un ordine del giorno collegato presentato da Luciana Bartolini della Lega per impegnare Giunta e Presidente di Regioni a promuovere la massima diffusione delle funzioni del Comitato attraverso lo studio di una applicazione di un'app per il telefonino gratuita in grado di fornire ad ogni cittadino la possibilità di accedere ai servizi offerti segnalare eventuali disservizi e soprattutto aprire e risolvere controversie il Consiglio approva il programma delle attività 2022 del Corecom che è un organismo poco conosciuto forse dai cittadini toscani ma fondamentale per i loro bisogni in materia di informazione di comunicazione di telecomunicazioni il Corecom svolge un'importantissima attività dal punto di vista delle controversie che gli vengono deferite in materia di telecomunicazioni di comunicazione e informazione sono stati quasi 10.000 i casi risolti dal Corecom negli ultimi anni in questo anno e altrettanto si presentano come probabili in futuro in più il Corecom svolge un'importantissima attività informativa ed educativa della cittadinanza il progetto più importante dal punto di vista della quinta commissione è quello senz'altro del patentino digitale che si rivolge alle scuole alle quali dedica 20 formatori preparati e strutturati nell'ambito delle attività del Corecom per aiutare i ragazzi a maturare una consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali a metterli in guardia dai pericoli del frequentare l'ambiente virtuale e digitale e soprattutto a farne cittadini consapevoli nell'utilizzo di questi strumenti che sono fondamentali che sono importanti e che però possono essere anche insidiosi se non se ne conoscono i meccanismi o se non si è in guardia ben in guardia sui pericoli che possono venirne nell'ambito della discussione in commissione è emersa anche la proposta di costruire un'app per diffondere la conoscenza e l'uso del riferimento al Corecom nei cittadini toscani il presidente Brogi stava pensando a qualcosa di analogo ha accolto la proposta della vicepresidente Bartolini e quindi siamo arrivati davvero alla massima soddisfazione all'unanimità dell'approvazione del programma che poi è stato portato in aula e approvato a larghissima maggioranza Abbiamo votato favorevolmente la proposta di risoluzione sul Corecom così come avevamo fatto anche in commissione dove avevo dato dei suggerimenti al presidente e li aveva accolti favorevolmente abbiamo presentato per questo un ordine del giorno proprio per permettere ai toscani di conoscere il Corecom perché la maggior parte non sanno che cos'è questo Corecom può aiutare in tante controversie nei servizi di telecomunicazione e lo scorso anno addirittura ne ha risolte circa 10.000 e sono gratuite quindi è importante farlo conoscere e per questo ho presentato un ordine del giorno per far sì che si possa creare un'app gratuita con la quale i toscani possano interagire con il Corecom inoltre è ancora positivo il progetto che partirà nel 2022 sul patentino digitale e saranno diciamo preparati 20 giovani per poter andare nelle scuole proprio per metterli in guardia creare delle buone pratiche contro il bullismo e contro tutte le problematiche di violenza che ci sono sulla rete sia per il discorso dell'odio delle parole ma anche per questo squid game che ultimamente sta prendendo piede tra i giovani un gioco di una rete televisiva Netflix che crea grossi problemi di violenza ai bambini siccome i genitori non sempre riescono a parlare con i propri figli bisogna che le scuole se ne facciano un po' carico e in questo anche il Corecom può darci una mano sostenere il progetto di Volterra Città della Cultura 2022 anche con un adeguato impegno economico per consentire l'avvio della programmazione di eventi di mostre di iniziative culturali già progettate questo è l'impegno chiesto alla giunta regionale in una mozione presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico l'atto di Volterra Città Toscana della Cultura è stato approvato a maggioranza con 25 voti favorevoli e un solo voto contrario quello di Marco Stella di Forza Italia ma io ho presentato una mozione proprio su Volterra Città Toscana della Cultura per il 2022 perché abbiamo apprezzato tantissimo l'idea la proposta del Presidente Gianni fra l'altro condivisa dal Ministro Franceschini che pochi giorni fa è venuto proprio a Volterra in visita di fare di Volterra la prima Città Toscana della Cultura un progetto che dovrebbe avere che avrà una durata almeno decennale perché Volterra perché Volterra ha già fatto un lavoro straordinario preparando predisponendo quel progetto rigenerazione umana che gli ha consentito di entrare fra le dieci finaliste nel percorso verso la capitale italiana della cultura poi è stata scelta procida però per Volterra entrare fra le dieci prime città candidate è già un successo quindi noi riteniamo che quel lavoro vada valorizzato condividiamo in maniera forte l'idea di Gianni ma occorre anche dargli le gambe perché sicuramente il progetto è bello ha coinvolto tutta la città tantissimi giovani necessita delle risorse perché possano essere avviati i progetti previsti per il 2022 fra cui uno per tutti è la straordinaria mostra sul rosso fiorentino l'opera del manierismo toscano risale al 1521 che è in fase di restaurazione presso la pinacoteca di Volterra quindi un bellissimo progetto un'ottima idea quella di fare di Volterra la prima città toscana della cultura farà anche dal laboratorio avrà quindi una funzione anche sperimentale anche per questo riteniamo che la regione debba mettere su questo aspetto anche delle risorse Empoli città Natale torna nei weekend fino al 16 di gennaio la città vedrà il magico mondo del Natale con una grande nevicata che imbiancherà tutta la piazza affarinata degli Uberti con il Luna Park la pista sul ghiaccio ma anche con il trino turistico per le vie illuminate del centro proiezioni architettoniche mercatini di Natale e soprattutto simbolicamente viene installato un albero in ogni frazione è qualcosa di davvero stupendo ho avuto l'opportunità di vederla due anni fa perché lo scorso anno non si è potuto svolgere è un segnale di speranza e di ottimismo che al di là delle convinzioni religiose di ciascuno di noi ci permette di guardare davvero al futuro in maniera differente il Natale è questo è la festa dei più piccoli è il modo con cui noi vogliamo guardare con speranza ed ottimismo al prossimo anno io vorrei solo ricordare lo scorso anno che cosa significava per tutti noi avevamo saputo che stavano per arrivare i vaccini però non c'erano non c'erano ancora non c'era la possibilità e la speranza di tornare a rivivere insieme di poterci guardare negli occhi quella socialità che tanto ci è mancata ecco rivedere il Natale a Empoli mi dà quella speranza che questa socialità può continuare ad esserci e se questo davvero avviene potrà continuare avvenire e grazie soprattutto alla vaccinazione a cui tante cittadine e tanti cittadini toscani hanno dato la propria disponibilità questo è un progetto che appunto coinvolge non soltanto il commercio ma anche la cultura e il turismo noi facciamo parte di quello che è l'ambito dell'Empolese Valdelsa e la nostra regione in questi mesi ha lavorato moltissimo per la promozione turistica ci fa piacere che Empoli possa rientrare in qualche modo nel periodo diciamo meno turistico è quello della dicembre perché Empoli non è poi una meta conosciuta per il turismo possa rientrare invece nelle tante prenotazioni nelle tante visite di cittadini non soltanto della nostra regione ma anche dalle regioni esterne appunto confinanti ma non soltanto l'evento sarà un evento totalmente in sicurezza stiamo lavorando forte con due partner che è Ennegan e Save the Planet per cercare di creare un evento anche ecosostenibile a impatto zero e siamo pronti ad aspettare tutte le persone dal 13 di novembre a visitare la città tanto turismo la risposta è veramente forte anche da fuori della regione perché tantissimi tour operator ci stanno contattando quotidianamente per organizzare comitive per venire a visitare la città quindi fa molto piacere questa cosa vitalizzare tutto il centro di fare un evento per Empoli e per il commercio di Empoli importantissimo ma andando oltre diventando anche un'attrazione turistica che porta gente ormai con pacchetti che vengono anche da fuori regione e quindi davvero un'esperienza di rilancio del centro del centro commerciale naturale di Empoli che ha portato anche poi a estendere questo efficace tutto il territorio con termine quindi insomma siamo contenti che quest'anno finalmente si possa riprendere in presenza con le attenzioni dovute alla situazione all'emergenza che ricordiamo non è ancora superata ma che comunque potrà portare nuovamente una grande boccata di ossigeno a tutto il commercio a tempo e rilanciare di nuovo l'immagine della nostra regione un po' e tutto il paese e per questo appuntamento è tutto vi ricordo per tutti gli aggiornamenti per essere sempre informati c'è il nuovo sito www.inconsiglio.it io vi ringrazio per averci seguito e vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il consiglio